quindi parliamo di problema di massimo e minimo il testo dice questo è dato un triangolo abc con la base ab doppia dell'altezza ch quindi il triangolo abc è il seguente la base ab è due volte l'altezza ch una retta r che è la seguente parallela la base ab in terze che i lati oblique a c e bc rispettivamente dei punti d e d sono i seguenti punti siano fg le proiezioni di d e d sulla base ab fg determina la distanza di c da r quindi sarebbe c k in modo che il rettangolo fg e di quindi fg e di questo rettangolo abbia re massima diciamo che in questo caso l'altezza determinare l'area del rettangolo e g fd e studiarla in funzione di una variabile e studiarla determinando il punto di massimo vediamo di svolgere l'esercizio qui è riportato il triangolo nel testo non è indicato alcun dato quindi poniamo ch lo chiamiamo a è un parametro e quindi ab che è doppio di ch è uguale a 2a posto c k ecco qui dobbiamo introdurre la variabile x se io chiamo c k x naturalmente posso calcolare k h come a meno x a è il parametro che abbiamo fissato per indicare ch naturalmente x è una variabile tra 0 ed a perché sappiamo che questa retta comunque si può considerare mobile se immaginiamo cioè si può considerare variabile variando la distanza x e quindi diciamo la nostra x può comprendere può assumere se vogliamo tutti i valori compresi tra 0 ed a dove a indica il valore di ch ecco la cosa importante da sottolineare è questa il triangolo abc e il triangolo cde sono triangoli simili quindi hanno i lati proporzionali e gli angoli congruenti questo lo possiamo vedere quest'angolo l'angolo in a è congruente all'angolo in d l'angolo c è comune l'angolo ib è congruente all'angolo in e questo ci porta a dire che se c k è uguale a x la base di e è il doppio di c k visto che nel triangolo abc abbiamo detto che la base ab è il doppio della base ch infatti ab è uguale a 2a quindi qui ho indicato con x c k 2x il segmento di e con a meno x il segmento di f questo perché devo calcolare l'area del rettangolo di e g f che è base per altezza quindi è 2x per a meno x e questa qui ho indicato gli elementi 2x e abbiamo detto ch pari naturalmente ad a mentre ab uguale a 2a e abbiamo detto che d con e uguale a 2x e c k uguale a x ricordiamo il triangolo abc e il triangolo d e c sono triangoli simili quindi lati proporzionali e angoli congruenti ecco qui arriviamo ecco entriamo nel noccio del problema nel senso che dobbiamo scrivere una relazione che traduca l'area del rettangolo in una formula matematica l'area del rettangolo indichiamo con a e base per altezza nel nostro caso 2x se torniamo un attimo indietro 2x è la base e l'altezza è a meno x e quindi possiamo dire che l'area del rettangolo è uguale a 2x per a meno x ricordiamo che x varia tra 0 ed a sono delle condizioni chiamiamole di esistenza di questa funzione che per comodità considero y uguale perché è più facile da esaminare infatti pongo a uguale ad y e qui l'alunno dovrà ricordiamo per determinare il punto di massimo fare la derivata prima di questa funzione che il prodotto delle funzioni 2x per a meno x quindi farà la derivata da prima che è 2 per la seconda non derivata più la prima 2x non derivata per la seconda derivata a e una costante che è derivata a zero la derivata di meno x fa meno 1 il risultato è 2a meno 4x poniamo la derivata prima uguale a zero abbiamo il punto di massimo x uguale a un mezzo di a quindi abbiamo possiamo dire che il rettangolo a area massima quando x assume pari a un mezzo di a con x che varia tra 0 ed a ricordiamo che il rettangolo ha base di con e pari a 2x e altezza pari ad a meno x qui faccio la tabella di monotonia che in cui si studia il segno della funzione derivata prima quindi vediamo che la derivata prima è maggiore uguale a zero quando x è minore uguale a un mezzo di a quindi qui è positiva qui è negativa la funzione quindi cresce dove la derivata è positiva decresce dove è negativa e il cambio ci porta a considerare un mezzo di a come punto di massimo e quindi l'ordinata per x uguale a mezzo di a si chiama massimo a questo punto ecco qui rappresento il grafico questo grafico rappresenta il grafico della funzione elementare 2x per a meno x che è una parabola e ci accorgiamo che è una parabola con la concavità rivolta verso il basso a è negativo questo è il massimo che stiamo considerando questa è la scissa quella che noi chiamiamo punto di massimo a questo punto il problema è risolto perché la domanda che ci faceva appunto il testo era la seguente dice questo diceva questo cioè determinare la distanza di c da r quindi in modo che il rettangolo abbia area massima abbiamo visto che il rettangolo ha area massima quando x è pari a un mezzo di a con questa ultima slide terminiamo la video lezione e invitiamo l'alunno a consultare ulteriori video lezioni relative a problemi di massimo e minimo sul canale youtube petracca francesco e sul sito matepetracca.blogspot.it fine della video lezione